Dopo due anni e mezzo di servizio, oggi è arrivato l'ultimo giorno per Michele Todisco alla direzione della Questura di Pesero Urbino. Todisco va in pensione e a vicendarlo a presidio della Questura ci sarà il 61enne casertano Raffaele Clemente, attuale vicequestore di Terni e per tre anni a capo del comando della Polizia Locale di Roma Capitale. Clemente sarà a Pesero per l'insediamento il 7 luglio ma intanto oggi in Equestura c'è stato un emozionato momento di congedo per Todisco che non solo lascia Pesero ma dopo 38 anni di servizio lascia ogni incarico di Polizia per sopraggiunti limiti di età. La malinconia in quei momenti prevale, il tempo è passato purtroppo, purtroppo è un passaggio particolare che sicuramente verrà superato però oggi non è una giornata particolarmente felice per me. Todisco ora si trasferirà a vivere a Bologna dove vive e lavora la moglie magistrato ma manterrà con Pesero un rapporto speciale. Io ho trovato una bella città, una bella città sana, educata, pulita, solidale, una bella realtà, veramente una bella realtà, non la conoscevo, me ne parlavano sempre bene di Pesero e ho toccato con mano questa situazione. Per Todisco Pesero è stata un'esperienza doppiamente unica, non solo perché è l'unica vissuta da quest'ora, ma anche perché è cominciata in simultanea alla deflagrazione della pandemia. Sono arrivato il 24 febbraio del 2020 e ricordo come ho detto in precedenza anche da altri organi di stampa che il 24 pomeriggio ci fu la prima riunione plenaria in prefettura con tutti i sindaci della provincia per le prime azioni da compiere per i che i contagi stavano crescendo e quindi la prima riunione quel giorno lì, il 24 febbraio, ci fu la riunione appunto per discutere se chiudere o meno le scuole. La prima ondata qui a Pesero è stata veramente terribile, anche la questura è stata falcidiata da, compreso me stesso, dal Covid. Dal sindaco Riccia al presidente della provincia Paolini tanti attestati di ringraziamento sono arrivati oggi verso il lavoro di Todisco che a Clemente lascerà non solo un ufficio ma anche una strada in discesa verso il trasferimento della questura negli spazi della caserma militare. È una soluzione ottima, la migliore possibile secondo me, perché è centrale, è funzionale e riqualifica anche la parte del territorio della città di Pesero con la presenza delle forze di polizia in zone non dico malfamate ma in zone un po' più difficili della città e quindi questa presenza potrà ulteriormente bonificare la città e rendere ulteriormente vivibile.